La battaglia contro il grande eolico in mare si sposta nei consigli comunali e anche per strada. Una mozione per esprimere opposizione alla distesa di pale dinanzi alle coste è stata proposta dal Movimento Regione Salento e sarà depositata dai propri consiglieri comunali in tutte le assise in cui sono presenti a Lecce, Brindisi e Taranto. Non solo. La mozione è stata fatta propria dal presidente della provincia di Lecce, Stefano Minerva, che la invierà a tutti i sindaci. Provede di impegnare i presidenti dei consigli a discutere dell'argomento nella prima seduta utile, chiamando l'organo più rappresentativo delle comunità locali a manifestare attraverso apposita delibera la netta contrarietà al progetto da 90 pale, alte 250 metri da installare, a partire da 10 chilometri dalla costa tra Otranto e Castro e in generale a tutti i progetti di realizzazione di parchi eolici offshore a largo delle coste salentine in considerazione dell'ora enorme impatto ambientale al fine di tutelare il patrimonio paesaggistico e naturalistico del Salento. La questione approderà anche in consiglio regionale. Ho già presentato una interrogazione in consiglio regionale alla quale farò seguire immediatamente una mozione, una mozione che impegni il governo regionale a prendere una posizione netta e chiara contro questi impianti offshore nel nostro mare, non soltanto nel Salento, perché ad oggi sono state presentate solo richieste nei mari salentini, ma per tutta la regione Puglia. Dobbiamo per forza tutelare il nostro patrimonio paesaggistico e naturalistico, dobbiamo difendere il nostro mare contro questo ennesimo attacco. Sono diversi già i progetti presentati lungo la costa salentina, considerata tra le più ventose e dunque più appetibili per lo sfruttamento a fini energetici. C'è scontento da parte del territorio, in particolare da Castro, che la cosa va approfondita bene, però è chiaro che noi sulle cose con troppo impatto non siamo d'accordo e che insomma anche i sindaci chiederemo il loro punto di vista su questo, ma la maggior parte danno un giudizio di contrarietà rispetto a questo. Il Movimento Regione Salento scenderà anche in campo con un sit-in organizzato per domenica 14 novembre alle 10.30 a Santa Cesaria Terme, in località La Fraula, che è il punto in cui dovrebbe passare il cavidotto che collega la centrale eolica marina alla rete elettrica nazionale, con opere a terra in uno dei tratti naturalisticamente più pregiati del parco regionale costiero Otranto Leuca. Siamo sotto attacco, lo diciamo da anni, ogni giorno siamo costretti a difenderci da qualcosa, a organizzare delle manifestazioni e alzare le barricate, perché il Salento è sempre più preda di squalli di speculatori multinazionali che vengono così a depredare le nostre bellezze senza lasciare nulla in cambio. Ci siamo già passati, le abbiamo già viste tutte, ma adesso penso che è arrivata una nuova coscienza civica da parte di tutti i salentini e credo che questa volta si possa riuscire a ottenere il risultato di bloccare questi insediamenti offshore nel nostro mare. E allora con forza diciamo che la bellezza del Salento è un bene non trattabile. Sia chiaro contro questi difensori d'ufficio delle multinazionali e non del territorio, deve essere chiaro che noi siamo favorevoli alle rinnovabili, ma non dove hanno un forte impatto, che si tratti di terreni o di mari. Sì alle rinnovabili, lo gridiamo a gran voce, sui tetti delle case e dei condomini, nelle zone industriali, nelle zone sin, altamente compromesse, nelle zone artigianali, che ci sia anche un beneficio per tutti i cittadini utilizzando l'energia rinnovabile, come succede nei paesi avanzati e non solo grandi profitti per le multinazionali.